ah buongiorno dal cimitero di Castillon punto ideale per iniziare ma soprattutto per finire giretto di oggi oggi in realtà nessun giro lungo particolare spettacolare per quanto sia la prima volta che salgo in Nevegal con la bici ma volevo un attimo fare il resoconto delle prime settimane di allenamento con tabella per sia la race across France che d'ora in poi chiamerò RAF che non è la Royal Air Force è l'abbreviazione ma anche udite udite notiziona dell'ultimo minuto oggi ho fatto la visita medico sportiva sono addirittura risultato idoneo per fare dello sport e faccio anche la maratona D'Les Dolomites il 4 luglio quindi via via sotto con gli allenamenti ah sono già col rapportino ovviamente non sono rimasto fermo in questi giorni non è che filmo tutte le mie uscite e ho anche fatto due giri in pianura c'è già quella temperatura per cui non voglio avere niente in tasca quando mi apro la maglia devo svolazzare tutto e asciugare i sudori giù un giro che ho fatto punto di 39 gradi che per me sono veramente tanti 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 troppi qua intanto uva monte pizzocco e tutti tutti il monte del sole schiara pelf serva che bel posto e che asfalto che c'è mamma mia sono sulle 15 ore a settimana circa che ovviamente per un atleta vero penso non siano granché ma per me le sento proprio tutte 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 poi con questo tipo di allenamenti cioè strutturati con i lunghi lenti oppure i veloci i piramidali lavori di intensità di forza eccetera si inizia a giocarsi in serio qua ragazzi che bella che è questa strada come al solito metto la traccia giù in descrizione è un po' defilata come piace a me magnifica caldo perché ci sono 33 gradi allora della raffo vi ho già parlato ma per chi non lo sapesse molto velocemente spiego che cos'è la maratona dles dolomites nome dles dolomites che è ladino non latino con la t ma con la d che è il dialetto diciamo delle dolomite appunto cadore badia eccetera 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 è una gara che ovviamente io affronterò con il mio solito spirito quasi non competitivo un po' più per paraculaggine che altro penso e se si svolgerà domenica 4 marzo una lunghezza di adesso non mi se 138 132 chilometri per 4000 e qualche cosa nel dislivello percorso si snoda lungo beh potremmo dire senza timore i passi più celebri figli delle dolomiti a cavallo tra veneto e alto adige quindi bordoi campolongo gardena sella falzare gogiau eccetera 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 ed è proprio una bella manifestazione nel senso che parte del fatto che si svolge per così dire sulle strade di casa ma poi boh non lo so ne ho sempre sentite parlare un po un sogno potervi siccivi partecipare ecco è passata quanto da quando sono partito sono stati 22 minuti quasi 23 è appena passata la prima macchina località pian del monte biga per il neveghal wow che bel posto sudori sudori a greste una fontana sai cosa vi dico di carico meglio non si sa mai prima della grande salita mai fatta questa strada con nessun mezzo quindi non ho idea dei panorami delle pendenze delle sofferenze bello l'unica cosa certa è che si suderà perché già sto sudando copiosamente per ora dice 10 ma ci mette sempre un po a beccare la pendenza ma pensa a te chi sta qua che pace e che fuori dal mondo 10 chilometri che bello magica magica valbelluna vedete così potrebbe anche suonare una fesseria ma nei miei ho fatto 140 più qualcosa ho 200 chilometri di pianura mi è veramente mancata la salita lo so lo so che mi ripeto ed è una cosa che periodicamente dico ma ogni mezzo per quanto in questa strada non l'abbia mai fatta comunque ogni mezzo ti fa vedere i posti in un modo tutto particolare diverso da qualunque altro mi piace la dici perché comunque hai quel ritmo ti muovi sufficientemente veloce per coprire grandi distanze è sufficientemente lento e silenzioso per poterti guardare intorno odorare ascoltare vedere oltre che guardare altra fontana ormai ho deciso di essere previdente e allora ricarico ogni volta l'acqua mi si palesa vi dirò di più mettete anche un po' di sali bivio val d'arta a destra ne regal per diritti oddio ma della discesa non non avevo considerato questa possibilità prima di arrivare in cima oddio e soprattutto dello sterrato vabbè 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 copertoncino da 30 vedi strada bianca non te temo comunque ragazzi quando arrivo su ti parlo di un paio di cose che ho cambiato sulla bici ad esempio dopo l'ultimo video in cui era tutto uno scricchio lì nel movimento centrale e magari dopo averci fatto boh circa quattro cinquecento chilometri la mia impressione su queste ruote asfalto let's check them up ok dobbiamo affrontare il tornante dobbiamo andare dritti per dritto c'è per questo tre col de go ecco è evidentemente cambiata sia l'ampiezza della strada che la sua civilizzazione mi sa che sono quasi sui Nevegall di vuttura qua siamo i più pressi di un albergone che boh un albergo fantasma ah ah ho capito dove siamo arriverò alla rotonda adesso perché perché di là c'è proprio il centro l'attacco degli impianti ecco e infatti guardala qua la mega rotonda la Nevegall allora prima di affrontare la discesa mi sono addirittura messo la giacca ventino leggera quindici chilometri e mezzo e come promesso se non vi interessa basta che andiate un po' avanti non mi offendo ve lo prometto allora il cambiamento che ho fatto ho cambiato completamente il movimento centrale e l'asse che c'era in mezzo perché era della misura sbagliata da un anno e mezzo praticamente farò un video apposito al riguardo quindi non entro troppo nei dettagli adesso e soprattutto sono tornato alla corona tonda questo non senza conseguenza nel senso che era abituato all'ovale nelle gambe si sente che mi era un po' abituato è diverso il tipo di sforzo e soprattutto i 142 km in pianura che ha una spinta continua monotona senza interruzioni eh vi ho proprio sentiti per quanto riguarda le gomme e i cerchi sono un sogno secondo me voglio dire che i cerchi sono veramente straordinari quindi non saprei dire se sono rigidi non rigidi eccetera perché sicuramente sono molto più confortevoli dei ditti Swiss quelli lì col profilo da 47 e sono più che sufficientemente rigidi per quelle che sono le mie necessità sono veramente molto più leggeri e si sente accelerando queste gomme qui ragazzi di Gvalbe Pro One nuovi tubeless sono straordinari penso anche nella versione da 28 e da 25 però in questa versione qua da 30 io veramente sarò e non me ne vergogna affatto ciclo turista e ciclo amatore nel profondo ma al momento non vedo perché avere una gomma più sottile e quindi più scomoda di un 30 veramente per quelle che sono le mie ambizioni le mie necessità anche la maratona delle Dolomiti penso che la farò esattamente con questi cerchi anche queste gomme qua quindi anche con una bici da gravel senza vergognarmene andrà benone penso adesso non sono granché stanco per cui ho fatto varie vie di fuga e alternative al giro vediamo come lo continuerò nel frattempo mi mangio una barretta e mi butto in discesa anche qua asfalto perfetto col nudo davanti sto iniziando anche a prendere confidenza con la gomma larga in discesa non che io l'abbia mai avuto con quella stretta e apprezzare diciamo così un certo grado di piega non chiedetemi dove sono perché non ne ho idea tornata nel fondo valle più o meno più o meno zona soverzone eccetera non so bene i nomi qua tornata nel caldo adesso in realtà pensavo che potesse essere un'idea simpatica stare sotto il dolada che è questo qua sotto il dolada che è questa montagna qua magari fare un giro alto nell'alpago non il giro del lago tornare giù verso farra e rientrare poi oggi in teoria avevo anche degli esercizi da fare un po' di veloci brevi per il momento non c'ho voglia ma li butto dentro proprio alla fine quando sono quasi arrivato ecco stiamo uscendo da Arsie e fino a qui veramente una strada stupenda pendenza bella larga tornantoni asfalto straordinario viva il giro d'Italia 30.05 2018 ho appena superato non so se ho riuscito a riprenderlo di là un bivio borgata paradisi che sembra tipo il titolo di un film di Antonioni non so perché mi sia venuto in mente sta roba ma si entra in alpago alpago delle meraviglie wonder alpago guarda un po' che ve il panorama da qua tutto franabile ecco allora appena superato pieve dal pago e mi dirigo verso belun di nuovo non so non so non so non so non so qua sarebbe veramente graziosissimo che vi fosse una fontanella amabile amabile pianura convento contro presa bassa testa incassata tra le spalle della bassa e cerchiamo di ottimizzare l'aereo dinamica statalissima e belluna a destra ma io vado a sinistra perché in teoria c'è un'altra strada che mi ha sempre consigliato Komut vediamo se esiste veramente prerogativa della destra orografica chiamiamola così del lago di Santa Croce è che la strada è tutta esattamente così come quella che sto facendo quindi generalmente alla velocità media dei motociclisti si aggira su di 130 140 in curva chiaramente se si vede che non c'è nessuno comunque l'alpago è veramente meraviglioso ed effettivamente è proprio uno di questi archi sotto la ferrovia cornolade agroturismo cornolade quante macchine qua c'è tipo una falesia come mai come io ho i muri 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 da rapportino tagliaerba con statuine neoclassiche pali della luce però devo dire che per quanto sudacchiosa è molto bella questa salita devo ancora trovare una fontana o meglio ne ho trovata una prima ma c'erano due che limonavano se la panchina è di fianco non volevo disturbarli oggi riprendo tutte le fontane che belle che sono queste strade dell'altopiano chiamiamolo così sotto al neve Gall tutte alberate qua devo andare di qua è anche comodo avere il Garmin perché gli si butta un occhio e si vede come sarà la curva ciao la curva in arrivo adesso per esempio curva a gomito letale guarda guarda la meraviglia gli sti viali sono delle gallerie nel verde guarda ora anche qua qua e voilà 60 chilometri e mezzo alla fine bellissimo giro valbelluna al pago ripeto traccia su strava in descrizione basta è tutto alla prossima ragazzi bye bye